Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Quale sarà la condanna per Filippo Turetta? Questa è la domanda che si sta ponendo tutto il popolo italiano, la 22enne di Vigo Novo uccisa proprio dall'ex fidanzato. Il giovane di Torreglia si trova ora nel carcere di Montorio, Verona e attende l'interrogatorio di domani con il GIP, primo passo verso il processo che definirà le sue sorti. Sarà egastolo o pena più leggera se il legale di Turetta porterà eventuali prove di infermità mentale. Ecco cosa ha dichiarato il giudice Valerio De Gioia, ospite del programma TV Zona Bianca. In teoria Filippo Turetta ha spiegato De Gioia rischiando dai 24 ai 30 anni di carcere. La relazione sentimentale è un aggravante che porta alla pena massima a patto che la relazione sia ancora in atto, mentre in questo caso era già finita quindi la pena è di molto inferiore. Nel procedimento penale con il rito abbreviato l'imputato, in cambio di una riduzione dei tempi del processo, ottiene uno sconto fino a un terzo della pena. Se poi aggiungiamo che durante l'esecuzione c'è una sorta di rilasciato quasi automatico ogni quattro anni, Turetta potrebbe arrivare a 12 anni di reclusione. Sarebbe una vera beffa per la famiglia Cecchettine e per tutte le donne vittime di femminicidio, dipenderà però da quanto schiaccianti saranno le prove portate in tribunale dall'accusa. Grazie. Grazie.